Pestum è un teatro naturale, un impianto sportivo naturale per la sabbia. Oltretutto a Pestum si è disputata ormai, ahimè, 18 anni fa, una delle più belle edizioni del trofeo Topolino dedicato ai bambini dell'handball e quindi l'auspicio è quello di tornare a Pestum con una manifestazione, un campionato italiano di Bicentbol per esempio, da calendarizzare tra giugno e luglio, poi dipende anche dal calendario internazionale la data specifica, però ci impegneremo, sono sicuro, da parte del Comune e da parte della Federazione per realizzare questo auspicio e questo programma. Sì, è un movimento sicuramente in crescita, chiaramente dobbiamo colmare un gap di un po' di anni rispetto alle principali nazioni europee, stiamo cercando di farlo con questo nuovo programma tecnico che ho iniziato da qualche mese al raduno di Salerno che è il primo raduno ufficiale della nuova nazionale femminile, c'è il nuovo direttore tecnico con il nuovo staff, stiamo investendo molto sulla parte tecnica e speriamo per appunto in poco tempo di ottenere qualche primo risultato, anche se come si diceva prima bacchette e magine non esistono e quindi non è che possiamo diventare i campioni del mondo in pochi mesi. Mettere insieme sport e cultura è un binomio vincente e noi su questo dobbiamo puntare. Il fatto di avere una nostra concittadina è componente della squadra, della nazionale, è motivo di orgoglio. L'amministrazione che ha una voglia straordinaria di puntare sulle infrastrutture sportive a creare le opportunità per i giovani ma anche per le squadre che competono a livello nazionale ed europeo le condizioni affinché possano non solo allenarsi ma anche coltivare i propri talenti su questo territorio. Mi sembra un passaggio importante questo perché non dobbiamo rimenticare che la provincia di Salerno da quest'anno esprime il presidente della federazione italiana Gioco Handball Pasquale Loria. Quindi l'evento di avere qui la nazionale non nasce così spontaneamente, nasce perché essendoci un nostro dirigente impegnato a livello nazionale ha di tutto opportuno di rilanciare anche i contatti con la nostra comunità e penso che la comunità di Pestum con le sue bellezze archeologiche con l'entuziasmo che mette l'assessore Siga ha tutti i requisiti per accogliere al meglio sia lo stage ma io voglio andare anche un po' al di là, accogliere tutti quegli avvenimenti virgolettati sportivi che possano esaltare le bellezze naturali di questa comunità.